L'Abruzzo perde quasi 13.000 residenti. Il dato emerge dal censimento permanente della popolazione curato dall'Istat. Al 31 dicembre 2020 in Abruzzo si contano 1.281.000 residenti, il 51,2% sono donne, con una flessione di 12.929 unità rispetto al 2019. Una tendenza, quella della riduzione della popolazione, che peraltro va avanti dal 2014. La diminuzione colpisce tutte le province della regione. Il maggior decremento si registra all'Aquila, che conta 290.811 abitanti, con una diminuzione di 4.027 unità. A seguire Chieti, la più popolosa, con 375.215 residenti e una diminuzione di 3.625 unità. Teramo, a quota 301.104 residenti e una diminuzione di 2.796 unità. Infine, Pescara con 313.882 residenti e 2.481 residenti in meno. Il comune abruzzese più piccolo è Montebello sul Sanglo, con 75 abitanti, mentre Pescara continua a essere il più grande, con 118.766 abitanti. Il comune che fa registrare il massimo incremento assoluto di popolazione più 568 unità è Francavilla al mare. Infine, è diminuita di circa 1.000 unità anche la presenza degli stranieri residenti in Abruzzo. Sono 82.500, pari al 6,4% della popolazione.